ciao a tutti io sono frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su yakuza 4 allora nello scorso episodio siamo arrivati tutti insieme e dovevamo praticamente finire vabbè parliamo con akia ma che ci dà un po di esperienza ah sì ci ha dato i suoi soldi perché posso suopare fra i personaggi posso cambiarle quando voglio ed è un pochino che non gioco perché ho voluto finire prima blasfemus quindi siamo pronti 500 punti esperienza siamo armati bene tra oggetti tutto direi di sì possiamo andare assolutamente sì let's roll sto registrando sì perfetto già fatto questa minians perché non i toughness adesso siamo diventati una gang se non sbaglio dovevamo dirigerci alla millenium tower no come vai via prima di kirio ci aspetta un bel compitotto non so perché mi sono venuto i brevidi forse la musica perché non vedo l'ora ed è due settimane che non gioco a yakuza sono due settimane pronti tutti li picchiamo chissà come funziona adesso il gameplay chi posso usare qualcosa mi dice che me li facciano usare a turno spero di sì a posto è vero che avevano fatto la trappola dei 100 milioni qua per vedere chi arriva arai arai è ancora vivo quindi l'ha tradito la catena continua per quello l'ha sparato allora basso un po' il volume quindi hai fatto il collegamento che sei stato tu è Beh si Quindi sei contento che sia morta tu? Perché ci vuole fuori Daigo? C'è l'esparata la schiena? C'è l'esparata la schiena? C'è l'esparata la schiena? Sembrava combattuto e invece era il suo piano? Eh parla spiega! Ok Però adesso che sono andati tutti in pensione Non c'è più nessuno Lui è un poliziotto L'ultima volta che ha sparato il capo dalla polizia Eccolo qua Vabbè noi lo sapevamo già però Ecco perché era così bravo Lo era? E adesso? Beh si l'hai amassato Non sei Chi è tutto sta avvenendo? Non è morto? Ma l'ha sparato? Eh già. Polizia. Tutti vogliono quei soldi. Era un proiettile in gomma. Ah no, era proprio a saldo. Quindi lo sapeva. Sono sempre di gomma. Mi sembra che adesso prendo una pistola vera. Mi sembra che mi sembra di aiutare un gruppo di ammiglia. Ah. Sì. 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 Ah no. a te ah no arrivano proprio alla grande con l'elicottero e volare tutti i soldi soldi per tutti non li conosce ma io te domani Cattivissimo Kiryu Vabbè tutti si vendicano diciamo Shun sarà contro Arai Cattivissimo 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 Ci spogliano tutti Eh non è un tatuaggio però Vabbè non è della Yakuza Ci fanno incominciare con Shun Perfetto Solo che io No Un'attività eccessiva Prepariamoci Perché non ricordo più come funziona Shun Cattivissimo Cattivissimo Non ricordo più Stavo provando a fare il Perry Prima Mi sono confuso con lo Silettoni Mura Com'è come inventario? Ah Ognuno ha il proprio Eh non so se ce l'ho con tutti Gli sta minando allora Non Rialzati Cioè svegliati più che rialzati Ok Ok no Gli ho fatto assolutamente niente Pam 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 para Ehi ehi Vieni qua Ah Eh eh Sono già dall'altra parte Che fatica Però sta perdendo colpi Qui ce la sto riuscendo a colpire molto di più Ehi Si è trasformato È rosso adesso Perché? Basta Solo con Kiri L'ho sbloccato il Perry Vero E basta Sura Ecco qua È la nostra chance È la nostra È la nostra chance Uh Ehi Fill the hit Non ce l'ho già il hit Attenzione Allarm bar Devo cliccare Sì Ah No me lo prendi il braccio No ti prego Ma come? Doveva finirlo? Dai Sarebbe stato più figo Vabbè ci sta Per carità Però Ok E uno è andato A chi tocca ora? Sejima Quindi ci li fanno fare Praticamente in ordine Ok Ok Con lui Avevo il grab Dovevo rincorrerlo E Lanciarlo in terra Eccolo qua La tigre Ok Ok L'ho già Voi E' Un Un No L'ho già L'ho già Questa È Con lui devo caricare i colpi Ce l'ho deciso? Vedremo un po', eh con lui non so se ho, anche con Tanimura non so se ho le cure, è un problema Ebbè, Takeshikido Pronti? Lassati un attimino Eh cazzo Ebbè Sbattuto in terra Era quella no? Vabbè Enorme comunque Però si scarica molto Velocemente Non gli faccio niente con l'hit Si sta caricando, mi fa malissimo Ma posso lanciarlo in terra? No 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 E basta Ho parato tutto Ci mangiamo il sushi set Niente, devo fargli la mossa finale Oì Scusami Questo è legale Questo è legale Scusami 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 Come faccio a batterlo? Cioè questo è a livelli di Kiryu praticamente Solo che si stanca molto facilmente Se non fosse per quello Se non fosse per quello sarebbe Proprio il più forte di tutti Eh ha rotto anche un po' le balle Dai! E che palle Paglielo vedere Diglielo E lui muore con l'hit Bam Bene Adesso ho gli stili Migliori Ah no Lascio un'altra di mura per ultimo Opla Daigo è forte Era forte Adesso non lo so più Mi fa male il dito Che devo tenere per Per mirare Per fare il lot E sei sicuro di voler Per combattere contro Kiryu Questa cosa non me la sarei mai aspettata Di Daigo comunque Chissà quanto è forte Questa è sicuro di far Ok, bella la musica. Dai, dai, go! Mostrami quello che sai fare. Bravissimo. Bravissimo. Eh. Oh, ya! Ok, dai, go, basta! Oh, attenzione! Oh, io giro! Dai, manalo! Che male, mincega! Muda, muda! Muda, muda! E basta! C'è uno spammone! Maledetto! Adesso ci curiamo! Eh, xx, dai! Eh, xx, dai! Aia, aia! Vedo coglione con la mossa! Che spam! Guardatelo! Sì, è uno spammone di merda! Sì, è uno spammone di merda! Non fare lo scemmino! A proposito! Grazie per avermi ricordato una mossa molto fondamentale del mio... del mio arsenale! Che cosa? Questa sea la posso usare controverlo, eh? Assolutamente no! C'è cuglione Ehi Eh scusami Non fare lo scemino Che male No Le ginocchia Ma che l'uno si fanno Questa cosa Eh Dragon Ball Vai Adesso creano un'onda d'urto Addirittura che i soldi Gli ha rotto la mano No ormai è finita dai Mi sembra comunque che la posso usare abbastanza bene quella mano Non posso più spezzarli le gambe Peccato E ora Tanimura Contra la polizia Che sicuramente sarà la parte più difficile Dato che non so se occure E ci saranno i soldati Cioè ci saranno i poliziotti I soldati Va bene Ma lui è forte Eh no Infatti No Questo mi sa di L'uomo delle pistole Di Akosaki Ti prego E tu sei uno di quelli Diglialo Sì Avete pistola Alla vero Vabbè Non ci dice che è il capo della polizia Come ti sei permesso? Eh no No Ti prego No 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 Ti prego No No Già fatto Come è tutto Come è tutto Cazzo era Mi sta facendo male Cazzo ti ridi Coglione Nervoso Mi sta venendo nervoso Mi sta venendo nervoso Mi sta venendo nervoso Spaga tutto Spaga tutto Diglialo Uno è andato Coglioni Ascolta No 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 Oh, un altro è andato Perché non bastano quelli che c'erano, no? Dovevi mandarmeli tutti? Elite bodyguard Dove stanno uscendo tutta questa gente? Ah, sì, eliminano un paio così, va? Dammi una mano Ok, un è andato Glielo lancia? Che pesanti che siete Ah, sono tornati a proteggerti Eliminalo, per favore Te lo sto odiando Infierisci Aspetta, no Stiamo cominciando a avere paura, eh? Basta che cazzo Vieni qua Perché mi stai dando molto fastidio Adesso arrivo anche da voi Dove stai andando? No Bastardo Ehi, arredi, arredi No Occhio la fitta Ecco, lui mi sa che se non quello ho messo peggio A terra A terra Ma dovrei fare a perriare se mi attaccano in cinque insieme? Ehi, arredi Ma dovrei fare a perriare se mi attaccano in cinque insieme? Mi sto facendo molto male Porca troia Sì, a perriare se mi attaccano in cinque insieme? Non posso colpirli Schivano altranza Facciamo così Lo sciamina Lo sciamina Parli come mi circonda, noè? Ammazzalo, per favore Arrestato È morto E poi? E poi? Poi? Odio Profondo Ammazzalo Signora, sarebbe anche data, non preoccuparti Stai un po' esagerando? Io te lo dico Ecco Oh, e basta Ci sbatto in terra Eliminalo Spungilo Gli ultimi due Qua Neh! Vieni qua Bastardo Vieni qui Ah E non promettete mai più Adesso Se sei da solo Senza nessuno che ci spara Possiamo giocare Ma che non si... Non resusciti quello Pungilo Pungilo, pungilo Ehm, finito? Ehm, finito? Ehm, finito? Non è facile il tonto adesso Il più forte è lui Il vero boss del gioco Boss finale La guardia e il bodyguard Ehm, finito? Ok Pungilo, pungilo 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 Che odio Sto urlando un pochino Devo rilassarmi Alma e sangue freddo Signora bodyguard Qui Ehm, finito? Pungilo Dovendo Eh, davvero Questa è stata brutta eh Lancialo, lancialo giù Per favore Deve morire Dove morire Uccidilo Per favore Già Spero la morte Sparalo per favore Uccidilo Ti prego Ammazzalo Ti prego Sì Sì Kiryu non fermarlo Ok Fermato Chi doveva fermarlo Dropkick Ti pensavo Lui Ah, sì? A controllare? Quanto è alto, Arai? L'ha detto che ci sono così, e poi mi sembrava di salvare. Ok. Ok C'è cosa vero? C'è cosa vero? E' vero Che crollatuto che stranzo Non è stato un giusto che ci sono stati aiutati, e quindi ci sono stati un po' di più attraverso. Ahahahahha! Ahahahahha! Allora, proviamo a provare veramente così! Cosa? Allora, è me, hai preparato? Ok ah ha scritto l'articolo insieme ai soldi sta buttando la notizia non male quindi anche se non lo uccidano comunque la sua carriera è finita è vero ma cosa ti aspettavi? Non ha il buco, ha la rengoma Però, per voi Cosa? Erei non dice niente Vabbè, certo Qu'è già? Qu'è già? Salvato dai soldi Minchia, super fortunato Qu'è già? E adesso? Oh, e basta Si è ammassato Due settimane dopo Il 30 marzo 2010 a Camoroccio Sto andando dallo Sky Finance Però, cosa ci faceva Tammimura e macchina? Sto aspettando Shun? E' la segretaria Ma sta proprio cazzeggiando Vabbè, si era capito dall'alto Da come era vestita E' la segretaria E' la segretaria Tu ti fai scenduto? No. 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 Sì. Oh... Oh, ma... ...Sato! Come se stia a me, come se stia a me? Hey, Hana-chan! Dove manatele a BEST? T'accento, ma... Eh? Allora... ...missi... ...missi... ...e... 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 ...date-san... ...e... 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 Beh, sì... ...abbiamo dei bambini che ci aspettano... ...e... E ora? Scusami? Va bene ragazzi, allora Sicuramente c'è cosa dopo i titoli di coda Io vi saluto qua Noi ci vediamo alla prossima serie Quindi su Yakuza 5 Ciao a tutti 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ah quindi diventa di nuovo il patriarca della famiglia? Grazie a tutti Ah no? Beh se lo merita dopo tutto quello che ha passato Grazie a tutti Ah quindi è sempre Daigo? Grazie a tutti Va bene ragazzi io vi saluto nuovamente Noi ci vediamo qua su Yakuza 5 Ciao a tutti Se il video vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate un mi piace Noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con il prossimo video Ciao a tutti